Sì, sicuramente dopo il gol subito evitabile, magari poteva costare caro a livello mentale, invece oggi questa squadra ha dimostrato che con le unghie e con i denti voleva riprendere questa partita e ribaltarla. Nell'intervallo ci siamo guardati e al di là di tutte le difficoltà e dei limiti che abbiamo mostrato durante l'annata, oggi è stato messo in campo quel cuore che serve per raggiungere la salvezza. Che partite è stata? Perché in primo tempo un po' contratti, forse si riuscì nella ripresa. Ma guarda, io credo che di play-out giocati sulle punte dei piedi non esistano. In queste partite qua deve venire fuori qualche altra qualità tecnica. E oggi questa squadra l'ha dimostrato. È solamente il primo tempo e dobbiamo adesso recuperare le energie e prepararci a venerdì che sarà una battaglia. Ma per noi questa salvezza vale la vita e faremo di tutto per raggiungerla. Salvezza vale la vita. Senti, Pescara è in vantaggio, 51 possiamo dire, come percentuale dopo questa vittoria? Bah, sicuramente un piccolo vantaggio c'è, ma come ti ho detto prima queste partite si giocano sul filo delle energie mentali. Ecco, quindi dobbiamo andare lì e rimettere un cuore grande in campo e veramente tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo e portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. Sarebbe un grave errore andare lì e a gestire il vantaggio. Ha detto Sebastiani poco fa. Vince, vuoi commentare? Sì, sono d'accordo, però sfido chiunque quando giochi per un obiettivo così importante a giocare in maniera totalmente sbarazzina o all'attacco. Quando ti trovi in queste situazioni, chiunque abbia giocato a calcio sa che ci vuole personalità, ma la posta in palio è altissima. Diciamo non come a Verona, Vincenzo, dai, sintetizzando. Non come a Verona col Chievo. No, perché questa squadra dimostra che poi quando va in difficoltà, quando deve rialzarsi, è capace anche di fare cose discrete. La natura di questa squadra penso che sia avere sì equilibrio, ma comunque provare sempre a vincere. Vincenzo, te ne faccio un'altra. Se hai visto Oddo, se hai parlato, se l'hai salutato, perché per noi è una situazione un po' complicata, difficile. Sì, l'ho salutato velocemente, dico la verità, perché comunque oggi c'era parecchia tensione e spazi per abbraccio, cose varie, non ce ne sono stati. Ho un bel rapporto con lui, ho stima di lui, perché è l'allenatore con cui ho fatto due finali play-off consecutive. Uno dei primi allenatori a darmi continuità nella mia carriera, però chiunque ci sia oggi dall'altra parte non riuscirei a perdere tempo in salute. Senti, Vince, non so se ti è stato chiesto prima perché sono entrato in corsa, però tu hai fatto una scelta di cuore, hai scelto Pescara. Quanto è difficile per uno come te, che hai scelto appunto Pescara, vivere queste situazioni perché magari altri tuoi compagni comunque vada, magari non restano qui. Però tu invece hai fatto una scelta di cuore, anche da un punto di vista umano. Per te questa è una sfida particolare, gli ultimi 90 minuti di Perugia. Beh sì, non lo nascondo che comunque quest'ultimo mese per me personalmente è un periodo veramente impegnativo perché purtroppo, no purtroppo, ma l'attaccamento che ho a questo posto fa sì che a volte enfatizzi un po' troppo le mie emozioni. Sì, come quando le cose vanno bene e tutto è amplificato, in questi momenti pesa, pesa perché la voglia che ho io di portare a casa questa salvezza, ma anche tanti miei compagni, però parlo per me, è una questione davvero di futuro e di vita professionale. Grazie. Grazie.